Oggi scopriamo cos'è una pagina di atterraggio e perché può diventare il tuo biglietto da vista online, ideale per convertire i potenziali pazienti in pazienti veri e propri. Nel video di oggi ho deciso di affrontare un argomento che forse inizialmente ti potrebbe suscitare qualche perplessità, ma seguimi perché scoprirai come una pagina di atterraggio, se ben strutturata e completa di tutte le informazioni essenziali, può diventare il cardine della tua strategia di marketing sanitario. Partiamo intanto dal significato di pagina di atterraggio. Si tratta infatti di un mini sito internet in cui il potenziale paziente appunto atterra dopo aver cliccato su un link o su una pubblicità a pagamento fatta ad esempio su Google o su Facebook. In questa pagina la persona troverà tutte le informazioni necessarie per prenotare la prima visita o per scaricare gratuitamente un contenuto che lo formerà al valore della tua offerta. Come ormai dovresti sapere, se hai già visto altri video di marketing medico, ogni strumento di marketing sanitario ha una precisa funzione e tutti devono essere legati da un sottile filo rosso chiamato strategia. Mentre la pagina atterraggio forma il paziente in modo più approfondito, la pubblicità a pagamento ha lo scopo di attrarre i tuoi nuovi potenziali pazienti. In entrambi i casi lo scopo ultimo di ogni strumento è quello di convertire. Approfondiremo questo concetto fra poco. Ho parlato di pagina di atterraggio come una sorta di biglietto da visita. Perché? Perché ho fatto questo paragone? Immaginiamo che la signora Maria soffra di artrosi e tu sia un chirurgo ortopedico in grado di risolvere il suo problema. La signora Maria non ha mai cercato attivamente, per esempio su Google, un medico che l'aiuti a star meglio. Ma un giorno, scorrendo la sua baccaca, di Facebook, si imbatte nella pubblicità che rimanda alla tua pagina di atterraggio. La signora Maria non è ancora pienamente consapevole del suo problema, cioè sa che c'è perché avverte dolore, ma non si è ancora decisa a cercare un medico specialista. In curiosità però dall'annuncio decide di cliccare sulla tua call to action, ovvero sulla chiamata all'azione presente su Facebook che rimanda alla tua pagina di atterraggio. È a questo punto che atterrasse una pagina in cui proprio come in un biglietto da visita dovrebbe trovare alcune informazioni precise, ad esempio chi sei, in cosa sei specializzato, come può risolvere il suo problema, cosa deve fare per contattarti o per approfondire, come ad esempio chiamare, scaricare un ebook, guardare un video. Una pagina di atterraggio ha una sorta di schema fisso, deve cioè mostrare sempre certi elementi e sempre secondo un certo ordine. Vediamo subito quali e in che modo. Una pagina di atterraggio tecnicamente si presenta esattamente come la pagina di un sito internet. Rispetto però ad essa riunisce in sé pochi e precisi elementi che hanno il fine di convertire il lettore. Immagina che un potenziale paziente sia capitato, proprio in questo momento, sulla tua pagina di atterraggio. Ecco, cosa dovrebbe trovare? Scorrendo la pagina, dall'alto verso il basso, dovrebbe trovare uno, l'headline, ovvero un titolo che sia accattivante ma soprattutto che faccia immediatamente capire al paziente cosa puoi fare per lui. Riprendiamo l'esempio di poco fa, quello del chirurgo ortopedico. Un modo efficace di rivolgersi al lettore potrebbe essere questo. Ad esempio, hai un dolore al ginocchio? Scegli il dottor Bianchi specializzato in chirurgia protesica che ha maturato negli anni un approccio personalizzato che ti permette di eccetera eccetera. Ecco, per catturare l'attenzione del paziente che altrimenti potrebbe chiudere la pagina di atterraggio, rivolgersi altrove, occorre essere diretti e presentare immediatamente il problema che vogliamo risolvere ma soprattutto il beneficio. Due, foto in primo piano. Non dimenticare di affiancare alla headline, al titolo, una tua foto istituzionale in camice mentre sorridi o una foto che ti rappresenta mentre lavori. L'importante è non utilizzare foto di stock, ovvero foto impersonali prese da Google o da archivi fotografici. Foto non tue danno immediatamente l'idea di qualcosa di artefatto, di finto. Non creano in alcun modo empatia con il potenziale paziente. Noi di Marketing Medico lo sappiamo perfettamente quanto sia difficile per un medico che non è abituato esporsi in prima persona e metterci la faccia. Ma è fondamentale farlo per trasmettere autorevolezza e per far capire al potenziale paziente chi avrà di fronte se deciderà di prenotare una visita con te. Tre, perché rivolgersi a te? Durante e dopo l'headline, cioè il titolo, è importante mettere in chiaro in modo dettagliato problemi e soluzioni. In particolare, in base al tuo posizionamento comunicativo, dovresti far capire al paziente in cosa ti differenzi dai tuoi colleghi e perché dovrebbe scegliere te, proprio te, invece che un tuo collega o magari rimandare la visita. Quattro, il tuo metodo. Formare il paziente significa anche fornire dettagli specifici sul tuo metodo del lavoro. Per esempio, cosa accade durante la prima visita? Sono previste più visite o sedute? Se è previsto un intervento, cosa occorre fare prima e dopo l'operazione? Tutte queste informazioni dovrebbero essere raccontate in modo sintetico. Se l'obiettivo, ad esempio della pagina d'atterraggio, è convincere, nel senso più buono del termine, il potenziale paziente ad approfondire magari il tuo metodo, lo potrà fare scaricando un ebook. E sarà il manuale a contenere tutto quello che non ha trovato spazio nella pagina d'atterraggio. Ricorda che spesso la persona non agisce perché ha paura. Non sai infatti a cosa andrà incontro o quali saranno i prossimi step. Questo problema si può risolvere raccontando tutto il percorso che il paziente farà con te. 5. Le testimonianze. Mettiamoci sempre nei panni del paziente che sta guardando la tua pagina d'atterraggio. Legge tante parole giuste, capisci di avere di fronte un professionista, ma chi gli assicura che sia proprio quello che fa per lui? Le testimonianze dei pazienti soddisfatti sono fondamentali. Ricorda sempre, non conta quello che dici te di te stesso, conta quello che gli altri dicono di te. Attenzione, non testimonianze anonime, palesemente scritte a tavolino o magari con un paio di amici, ma autentici pareri di persone con nome, cognome e foto. Meglio ancora se queste testimonianze sono in formato video. Il lettore dovrebbe immedesimarsi, entrare in empatia con il paziente che racconta la propria storia, che racconta il percorso che ha fatto e che ha dovuto affrontare con te. Sei la call to action, ovvero la chiamata all'azione, che può essere la prenotazione di un consulto telefonico, di una prima visita o magari il download di un contenuto che vada ad approfondire il tuo metodo. Deve essere questa chiamata all'azione molto breve, una frase è più che sufficiente. Qualcosa come prenota ora la tua prima vista oppure scarica gratis il mio ebook sulla chirurgia protesica. Una frase che a conclusione di tutto possa spingere la persona a compiere un'azione, ad agire. 7. Il bottone della call to action. Graficamente la chiamata all'azione dovrebbe essere sempre inserita in una forma geometrica cliccabile, come ad esempio un bottone, cioè un rettangolo, che attiri l'occhio del lettore. Anche il colore e la dimensione di questo pulsante devono essere studiati molto attentamente. L'arancione potrebbe attrarre l'attenzione del lettore, e non è un caso che ha lo stesso colore che usa Amazon. Mentre le dimensioni devono essere sempre abbastanza grandi. Questo per consentire una lettura facile e immediata di questa chiamata all'azione. 8. Il prezzo. È importante mostrare chiaramente il prezzo del servizio di front-end, ovvero del servizio col più basso muro di accesso per i tuoi potenziali pazienti. Per esempio la prima visita, ovvero il servizio a cui tutti possono accedere, oppure un manuale di approfondimento, magari quest'ultimo gratuito. L'intervento o il percorso terapeutico è un servizio definito di back-end, che solo alcuni degli interessati potrebbero voler scegliere. Ma in ogni caso, solo in un secondo momento. 9. Una breve biografia. La pagina aterraggio dovrebbe contenere anche brevi ceni su di te. Non una biografia lunga e dettagliata, come quella che potresti pubblicare sul tuo sito internet, o in una pagina dedicata. Ma bastano alcune notizie sul tuo percorso professionale e sul motivo che ti spinge ogni giorno a dedicare tutte le energie ai pazienti. Ancora una volta, è molto meglio parlare del perché fai quello che fai, piuttosto che elencare come una lista della spesa i tuoi titoli, i tuoi master o l'esperienza all'estero che i potenziali pazienti solo in rarissimi casi sanno leggere e apprezzare. 10. Le domande frequenti. Le domande frequenti dei tuoi pazienti, ovvero alcune delle domande che ti rivolgono più spesso in sede di visita. Inserire nella tua pagina aterraggio le domande e le relative risposte può essere una bussola per tutti quei pazienti che vorrebbero contattarti ma hanno molti dubbi in testa. Ecco, questi sono i 10 punti che non dovrebbero mai mancare in una pagina aterraggio. Adesso ti starei forse chiedendo se esiste qualche accorgimento utile o qualcosa per rendere la tua landing page, cioè la tua pagina aterraggio, davvero efficace. Ho quindi deciso di dedicare l'ultima parte del video a 4 consigli che dovresti tenere a mente quando ti rivolgi ad un'agenzia di marketing sanitario per la realizzazione di una pagina di atterraggio. Di queste pagine è pieno il mare magnum di internet, ma non tutte funzionano o sono davvero performanti. Quelle che convertono davvero seguono quasi sempre queste 4 buone pratiche che dovrebbe seguire anche la tua pagina aterraggio. 1. La pagina aterraggio deve chiedere all'utente di compiere una sola azione, una chiamata all'azione, che può comunque essere ripetuta all'interno della pagina aterraggio, ma una è più che sufficiente. Diverse chiamate all'azione potrebbero confondere il lettore e distrarlo da ciò che vogliamo che faccia, come ad esempio scaricare un ebook, chiamare un numero, mandare un email, compilare un modulo, scegliene una sola. 2. Impedisce all'utente di uscire dalla pagina, ovvero non offrire elementi di distrazione come ad esempio un menu o un link esterno. Una pagina aterraggio non deve assomigliare ad un sito internet, con un menu che magari permetta alle persone di approfondire o dei link che rimandano ad altre pagine interne. Il lettore dovrebbe poter cliccare nient'altro se non il bottone della chiamata all'azione. Tutto il resto lo distrae e rischia di portarlo lontano dal tuo obiettivo. 3. Se è presente un modulo di contatto, deve essere semplice da compilare. Non sempre la pagina di atterraggio invita a chiamare un numero o a inviare un email. Può anche richiedere alcuni dati del lettore per inviarli ad esempio un ebook. Questi dati vengono richiesti attraverso un modulo di contatto da compilare ed è fondamentale che siano pochi i dati richiesti. Bastano ad esempio nome e cognome e indirizzo email. In rari casi anche il numero di telefono, altrimenti il potenziale paziente potrebbe scoraggiarsi o non riempire tutti i campi richiesti. 4. Testa ogni singolo elemento. Per scoprire se una pagina di atterraggio funziona veramente occorre fare i test. Testare cioè che ogni elemento, dalla foto in primo piano ai testi al colore del bottone della chiamata all'azione, sia funzionale. Anche se sta ottenendo ottimi risultati, con alcune piccole modifiche potrebbe convertire un maggior numero di pazienti. Un'agenzia di marketing sanitario che svolge bene il proprio lavoro mette continuamente in discussione la propria pagina di atterraggio. Questo perché non esiste una sola verità o una formula magica. Diffida sempre da chi non ti propone miglioramenti o modifiche agli strumenti di marketing sanitario. Ultimo, ma non per importanza, ricorda sempre che anche le pagine di atterraggio devono rispettare la legge in materia di pubblicità sanitaria. In particolare, deve essere escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Questo significa che ogni contenuto non può avere come unica o principale leva il prezzo. Ogni contenuto non può far leva su paure, ansie e prospettive ingannevoli. Tutte le comunicazioni non devono suscitare emozioni forti o promesse vaghe ma attraenti. In pratica, tutti i contenuti devono essere di tipo informativo formativo, basati su fatti e promesse reali. Ci siamo, non ti resta che mettere in pratica questi suggerimenti con il supporto e l'aiuto di un'agenzia specializzata nel marketing sanitario, proprio come noi di Marketing Medico. Se vuoi prendere in mano le reddine della tua comunicazione online, nella descrizione di questo video trovi il prossimo passo da fare. A presto!